Siamo con Marco Madella, presidente dell'AS Curtatone. Ormai siamo vicini al momento clou, entrare nel vivo del terzo gran premio della battaglia. Le fasi preliminari sono quasi completate, però due dati sono importanti. 142 atleti, 27 formazioni, tra le più forti a livello dilettantistico nazionale. Vuol dire che questa gara è sentita dagli addetti ai lavori. Aggiungo questi numeri, 50 volontari sul percorso, più altri 30 che lavorano all'organizzazione. L'organizzazione che ci coinvolge in pieno da gennaio di quest'anno e che ci ha aumentato questa ansia, questa voglia di fare questa manifestazione al fatto che la federazione regionale l'abbia scelta quale gara in cui attribuire la maglia di campione regionale 2024 Under 23 Elite. Questa per noi è una grande soddisfazione. Ci auguriamo che sia una bella gara. Il percorso per quello che riguarda la sicurezza è curato nei minimi dettagli. Come dicevi tu, le squadre sono tanti, i corridori sono importanti. C'è la presenza anche di qualche continentale che partecipa a gare di professionisti. Per cui io spero che oggi sulle strade che noi vogliamo sempre ricordare per quello che è accaduto nel 1848, questi ragazzi possano festeggiare e ringraziare coloro che 180 anni fa, precedendoli, hanno per questo ideale di libertà, hanno qui combattuto. Un cordiale benvenuto a tutti gli appassionati e le appassionate del ciclismo. Ci troviamo a Montanara per raccontare le varie fasi del terzo Gran Premio della Battaglia, appuntamento riservato alla categoria Under 23 ed Elite, organizzato dall'AS Curtatone con il supporto della Comune di Curtatone, con il Comitato Provinciale FC di Mantua e un nutrito gruppo di volontari che si pongono al fianco del gruppo guidato da Marco Madella. Insieme a loro un nutrito gruppo di sponsor. Bene, alla via di questa competizione si presentano 142 atleti in rappresentanza di 27 squadre e come richiede il protocollo di inizio manifestazione, la prima cosa che sa da fare è la presentazione delle squadre e la presentazione degli atleti. un momento davvero emozionante in cui gli sportivi e gli appassionati possono vedere da vicino, giù dalla bici, quelli che saranno poi i protagonisti in sella di questa importante e prestigiosa manifestazione. Dopo l'esecuzione dell'inno nazionale viene abbassata dalle Arcoguerra Junior che è affiancato dal Presidente della Provincia, nonché Sindaco di Curtatone, Carlo Bottani, dal Presidente Provinciale della Federazione Fausto Armanini, il Presidente Regionale della Federazione Stefano Pedrinazzi, tutta la giunta del Comune di Curtatone a partire dal Vice Sindaco Federico Longhi, l'Assessore Cinzia Cicola e abbiamo anche il Consigliere Delegato allo Sport Matteo Totaro. Bene, tutti loro sono naturalmente davanti per le foto di rito, ma ha terminato l'inno di Mameli, è il via che viene decretato appunto dal nipote della locomotiva umana, le Arcoguerra Junior. Siamo ormai a metà gara dei 172,500 km di questo terzo Gran Premio della battaglia. I tentativi di fuga sono continui, ma il gruppo almeno fino a questo momento ha deciso di non farsi sorprendere. Certo, lascia andare per qualche chilometro, ma poi riprende ad andare fortissimo e va a recuperare i fuggitivi. Quando siamo dopo 60 km dal via c'è una fuga a 6, ma questa fuga dura poco meno di qualche chilometro, come del resto tutte le altre. Abbiamo il primo traguardo volante della giornata, sono tre i traguardi, due dinanzi al palco d'arrivo e uno in località Santa. Ad aggiudicarsi il primo dei traguardi volanti dopo tre giri è Matteo Calovi della Sissio Team. Siamo ormai entrati nella seconda ora di gara e la media è piuttosto ragguardevole, vuole dire 46 km e 800 metri l'andatura del gruppo. Un gruppo che continua nella sua azione a tenere sotto controllo gli atleti più facinorosi perché non ci siano sorprese nel finale di questa gara. Nella seconda ora di competizione arriva anche la vittoria in località alla Santa da parte di Roberto Bottaro del Veloclub Mendrisio del secondo traguardo volante. Dopo 143 km dei 172.500 previsti, si forma in testa alla corsa un plotoncino di una quindicina di unità. A guidare la corsa si sono portati nell'ordine Michael Cattani della Arvedi Cycling Team, poi abbiamo Roberto Bottaro del Veloclub Mendrisio, con loro abbiamo anche Mirco Rizzo della Vertematese, poi Riccardo Sofia della Beltrami TSA, la risorsa umana, e per la Zalfa Euromobile Desiree Fior Matteo Cettolin, l'atleta della Garlaschese Valerio Montuori. Anche lui insieme agli altri stanno facendo l'andatura, il gruppo li controlla a distanza, guadagnano un vantaggio massimo di 24 secondi, ma proseguiamo nell'elenco dei protagonisti di questa fuga, è Cristian Calzaferri della Gallina Lucchini Ecotec, con anche il compagno di squadra Elia Ori, poi abbiamo anche l'atleta Luca Bertoni della Pregnana, con la testa della corsa si è inserito pure Lorenzo Farinati della Petrucci Parprec Team Aries, e continuando nell'elenco abbiamo anche l'atleta col dorsale 60, Francesco Sangalli del pedale Scaligero. Il compagno che si sta predisponendo in fila indiana, lanciata questa volata a propiettoria, traguardo volante, e il vento tempo dell'atleta della Pregnana, ecco lì che paragono, eccola volata per il traguardo, eccola se la giudica l'atleta Riccardo Sofia, e la Pregnana Petrani PSA la risorsa, mancano quattro giri al termine di... Siamo al triangolo rosso dell'ultimo chilometro, il gruppo ha fatto per bene il suo lavoro, gruppo che è compatto ed è agli ultimi mille metri, qui ovviamente l'andatura cresce in maniera sensibile, con le squadre che dispongono di abili velocisti, pronte a creare gli spazi, perché loro possano esultare sotto lo striscione d'arrivo. La volata inizia da lontano, ma ai 250 metri esce di prepotenza l'atleta del Veloclub Mendrisio, Nicolò Delisi. Allora, vediamo tutta la sede stradale, è una volata straordinaria, ma c'è un accaduto purtroppo, magna del Mendrisio. Ai 250 metri esce di prepotenza Nicolò Delisi del Veloclub Mendrisio che si aggiudica la gara davanti a Michael Cattani dell'Arvedi Cycling Team e terzo si piazza Giovanni Cuccarolo della Zalf Euromobile Desiree Fior, mentre ad conquistare il titolo di campione regionale di categoria è Elia Cassani della Sissio Team. Con Elia Cassani, figlio d'arte, a Rodigo ci hai provato in tutti i modi, non ti è andata bene. Vedo che c'è anche il papà qui. Lo ricordiamo, Brambilla ci ha ricordato spesso che il papà vestiva la maglia della Bottoli e tu invece hai vesti questa di campione regionale, è una grande soddisfazione. Sì, grande soddisfazione quest'oggi, inaspettata, non me l'aspettavo neanche io e quindi sono molto contento. Una gara durissima, 172 chilometri, ma sei riuscito a stare sempre all'attenti quando il gruppo andava a riprendere i fuggitivi. Sì, oggi gara lunga, però si è riusciti a fare con un bel lavoro di squadra, si è riusciti a controllare sempre la corsa, non è andata via la fuga e ho provato a farla volata e è andata bene. Perfetto, in bocca al lupo per il resto della stagione. Viva il lupo, grazie. Mendrisio consegna il trofeo Marco Madella, presidente dell'AS Curtatone. tutti insieme, tutti insieme per questo momento. Si aggiudica il terzo gran premio della battaglia con la maglia del Velo Club Mendrisio, Nicolò De Lisi. Una volata stupenda. Purtroppo c'è stata una caduta, ma tu sei riuscito comunque a mettere tutti in fila, tutti dietro. Sì, ero venuto qui al primo Memorial, avevo fatto quarto, quindi il percorso non mi era nuovo. Sapevo che bisognava prenderlo davanti, in rettilineo, ma di non partire troppo presto, perché essendo così lungo, poi prendere tanto vento non mi avrebbe favorito. Purtroppo c'è stata una caduta, essendo davanti sono riuscito a evitarla e dare tutto poi in volata. Ecco, è stato un testa-testa incredibile con gli altri due che sono saliti sul podio con te, ma veramente questa è la vittoria numero? Uno. L'ultima era stata da Junior al campionato nazionale svizzero, quindi sono cinque anni che cerco questa vittoria, sempre piazzamenti, ma sono contentissimo di essere riuscito a finalmente alzare le mani. Una gara importante e prestigiosa che ti apre le porte a tanti altri successi. Certamente. L'abbiamo messa nel calendario fin da subito, e avevo detto che era un appuntamento al DS, avevo detto che era un appuntamento a cui avrei voluto partecipare e mi hanno accontentato e sono molto contento. Essendo la prima, dobbiamo necessariamente dedicarla. A chi? Ebbè, essendo la prima, le dediche sono tantissime, sicuramente alla famiglia, al DS che ha creduto in me, alla squadra, a tutti i compagni, gli sponsor. Penso che una persona sola a cui dedicare questa vittoria non ci sia. In bocca al lupo. Grazie, Crepi. Siamo con Matteo Totaro, consigliere comunale delegato allo sport per il Comune di Curtatone. Una giornata stupenda. Meglio di così, credo che non si potesse pensare per il terzo gran premio della battaglia. 142 atleti al via, 27 squadre tra le più forti a livello nazionale. È un percorso stupendo, che non ha solo l'aspetto sportivo, ma anche quello storico e umano. Sì, Paolo, buongiorno a tutti. Devo dire che quest'anno, a differenza degli altri anni, a mio parere, da un ex ciclista, un corridore amatore, quale sono stato, è stata una gara più difficile del solito, perché il caldo ha influito tantissimo sul gruppo, in quanto i velocisti di punta non sono riusciti a andare via. Ma a noi preme un altro fattore, che è quello del Comune, del nostro Comune. Con questo atto abbiamo chiuso per il terzo anno il terzo gran premio della battaglia, gara impegnativa, bellissima, e continuiamo e andiamo avanti sulla nostra strada per infondere nelle nuove generazioni la cultura dello sport. Cultura che, a mio parere, in questo caso abbina lo sport, la cultura quella vera, cioè la storia, capire dove siamo e chi c'era prima di noi, chi c'è stato ieri, chi c'è oggi, chi ci sarà domani. Anche questo. E noi per questo puntiamo sui nostri giovani e infondiamo e continueremo a infondere la centralità dello sport nella cultura dello sport. Grazie a tutti. Marco Madella, abbiamo visto che è calato il sipario sul terzo gran premio della battaglia, una gara bellissima, con gli atleti che, sino all'ultimo, hanno cercato di rovinare la festa alle formazioni con i più forti velocisti. Ma il gruppo ha detto no, signori, qui deve vincere un velocista. Ha vinto un atleta del Velo Club in Bendrisio e questo significa che il gran premio della battaglia è diventato anche europeo, non solo nazionale. È stata una giornata bellissima, una gara fantastica, tutto è andato bene, tranne purtroppo l'episodio durante la volata finale in cui ci sono stati coinvolti quattro atleti caduti, di cui uno è stato ricoverato, ma ci sembra che tutto sommato stia abbastanza bene. L'organizzazione è andata bene, loro si sono dati battaglia alla grande, fughe contro fughe, e poi alla fine, come immaginavamo, una gara così ambita in quanto assegnava il titolo di campione regionale, il gruppo si è compattato, c'è stata questa lunghissima volata negli ultimi 700 metri, vabbè, rovinata in parte da questa caduta, ma io penso che chi indossi la maglia di campione regionale conquistata in questa gara possa essere soddisfatto perché ha fatto un'impresa.